Mi auguro che si possa il più presto partire per fare dei piccoli correttivi, sapete non c'è tanto da cambiare, nel senso che questa maggioranza sta lavorando bene, ma se si può fare meglio sicuramente va fatto. Clima rovente nella cosiddetta fucina del centro-destra, pronta a rivedere alcune situazioni nello scacchiere comunale. Le parole del segretario provinciale della Lega, Roberti, confermano quanto dichiarato dagli altri esponenti del Carroccio, che forti dei numeri delle europee stanno facendo capire che qualcosa andrà rivisto attraverso un tavolo politico assieme al sindaco. Stando alle ultime voci, il vertice di maggioranza dovrebbe tenersi giovedì pomeriggio. Io leggo le dichiarazioni del sindaco di piazza che dice che c'è bisogno di un tavolo politico e proprio di politica bisogna parlare. Se c'è un aumento così esponenziale dei voti vuol dire che le nostre proposte vengono accettate in un certo modo dal cittadino che le apprezza e ci premia nella cabina elettorale. Penso che dare una risposta a chi premia quella particolare idea aveva vantaggio non soltanto della Lega, ovviamente, ma di tutta la coalizione e di tutta la maggioranza. Lunedì sera il Consiglio Comunale, tra le altre importanti tematiche che riguardano la città, sarà chiamata a eleggere il presidente del Consiglio Comunale, che a questo punto diventa aspetto secondario proprio perché in testa risuona la possibilità di vedere la Lega richiedere maggior spazio in giunta, anche se Roberti si dimostra piuttosto cauto. Non è un problema di persone, quando ci sono delle idee buone l'importante è che quelle idee vengano portate avanti, quindi per il momento ne parliamo semplicemente di questo. Vogliamo però che ci siano dei cambiamenti e vogliamo essere ascoltati perché pensiamo di avere il diritto di essere ascoltati maggiormente all'interno di questa maggioranza. Infine un dettaglio, detto dello scenario comunale e premesso che in regione non sono previsti i movimenti, non è da escludere che, qualora l'assessore alla cultura e allo sport Gibelli lasciasse la giunta in tempi brevi, come si mormora già da qualche tempo, si arrivi a mettere in mano anche nella composizione dell'esecutivo regionale e ciò non sarebbe indolore per gli equilibri interni del centrodestra.